Inaugurazione dell'anno giudiziario senza particolari sorprese o polemiche a Salerno una relazione con contenuti definiti altalelanti dal presidente della Corte d'Appello Matteo Casale tra conquiste raggiunte ed ostacoli insormontabili. Tra gli aspetti qualificanti i risultati per la sezione penale che è riuscita a definire un numero notevole di processi facendo fronte anche alla trattazione dei maxiprocessi. Si è ridotto poi al minimo il carico di lavoro per la Corte d'Assise d'Appello ridotto al minimo anche la pendenza delle controversie in materia di equa riparazione per l'intera sezione civile. Risultati positivi per la sezione lavoro restano sullo sfondo però i consueti problemi della giustizia salernitana ad iniziare dalla carenza degli organici, disagio anche per il personale di cancelleria e segreteria nel Tribunale di Salerno a fronte di un organico previsto di 239 già sottodimensionato. Dal 2007 ad oggi sono venute meno per varie cause 64 unità senza dimenticare quella che viene definita una ferita che sanguina cioè l'accorpamento del soppresso Tribunale di Sala Consilina a Lago Negro una scelta inspiegabile per Casale che ha auspicato un ripensamento nella nuova legislatura anche alla luce della sospetta incostituzionalità. Per il Tribunale di Locere Inferiore poi si rischierebbe la paralisi per l'inadeguatezza degli organici anche alla luce della riorganizzazione e dell'aumento dei carichi di lavoro che in virtù della riforma transiteranno da Salerno alla struttura dell'agro. Da non dimenticare inoltre i problemi logistici con i ritardi nella consegna della nuova città della giudiziaria che rischia di non essere completata perché mancano i finanziamenti necessari. A breve, ha detto Casale, entro la prossima estate dovrebbero essere ultimati i primi tre edifici uno per i servizi generali e gli altri due per il Tribunale civile e penale. Allo stato attuale però, come rivelato anche dal sindaco De Luca, mancano 30 milioni di euro per completare altri tre edifici. Sempre a proposito di strutture, il Presidente della Corte d'Appello ha ricordato le carenze del carcere di Salerno nonostante gli interventi effettuati. Casale ha voluto anche commentare i dati contenuti nella relazione del Presidente della Corte Suprema di Cassazione, evidenziando una netta differenza con quanto accaduto a livello nazionale sulla mediazione. Secondo Casale, nel salernitano, fino a quando c'è stata l'obbligatorietà, si è registrato un rallentamento del giudizio. Grazie.